Il marketing senza un piano non è molto meglio del gioco d'azzardo ed è un modo per perdere molti soldi molto velocemente. Esistono molti strumenti che possono aiutare i professionisti del marketing a creare un piano di marketing efficace, ma avere un piano per cominciare ti darà un'idea di cosa fare e da dove iniziare. La maggior parte delle aziende ha piani di marketing che segue, creati da qualcun altro o propri. Man mano che le aziende crescono, spesso creano nuovi piani di marketing adattati alle particolari esigenze della loro attività e allo stato del mercato in cui operano. Come creare un piano di marketing Ci sono diversi passaggi per far decollare un piano di marketing. Innanzitutto, inizia definendo ciò che vuoi ottenere attraverso i tuoi sforzi di marketing e considera le risorse a tua disposizione, quindi, crea un elenco di opzioni e cerca eventuali tendenze o modelli che potrebbero verificarsi nel tuo settore. Infine, sviluppa una strategia su come implementerai il tuo piano e assicurati che sia in linea con gli obiettivi che ti, sei prefissato. Definisci i tuoi obiettivi Questa è la parte più importante di un piano di marketing prenditi del tempo per pensare a come vuoi beneficiare, della tua attività e cosa significa per te il successo. Pensa a cosa otterrai da un aumento delle entrate, una maggiore soddisfazione del cliente o una maggiore consapevolezza del marchio. Cerca le tendenze, considera ciò che sta accadendo nel settore, nonché i cambiamenti nelle preferenze dei clienti, nella tecnologia e nella concorrenza. Cerca opportunità in cui il tuo prodotto o servizio potrebbe essere unico e un gradino sopra. Cos'è il marketing? Il marketing è il processo di promozione, vendita e distribuzione di prodotti o servizi. È anche l'attività, insieme di istituzioni e pratiche che cercano di stabilire un prodotto o servizio nel mercato. Sostenerla e farla crescere in modo che possa soddisfare più desideri o bisogni. Il marketing è l'atto di riunire diversi gruppi di persone, comprese le parti interessate di un'azienda, per raggiungere obiettivi comuni e aumentare la consapevolezza. Il marketing include anche PR e pubblicità. Gli obiettivi del marketing includono l'aumento del volume delle vendite, la consapevolezza del marchio, la quota di mercato, i margini di profitto, il ritorno sull'investimento, ROA, dei clienti, il tasso di crescita delle vendite, ecc., nonché la modifica del comportamento da un gruppo all'altro. Il marketing riguarda la comprensione del cliente e la conoscenza di ciò che desidera. Il marketing è il processo di creazione di una domanda per un prodotto. Un marketer di successo deve capire il cliente e sapere cosa vuole. Devono anche sapere chi sono i loro concorrenti e come operano, qual è il loro mercato di riferimento e avere una profonda conoscenza dei loro prodotti per poter parlare di loro in modo informato che attirerà i clienti. Un piano non è una garanzia di successo, ma è un modo per assicurarti di fare tutto il possibile per avere successo. Ci sono molte risorse che possono aiutarti a rendere il tuo piano più efficace, come gli obiettivi smart. Piano di marketing strategico Un piano di marketing strategico è uno strumento che aiuta un'organizzazione a creare e condividere la sua visione per il futuro e fornisce indicazioni su come arrivarci. L'obiettivo principale di un piano di marketing strategico è aiutare l'organizzazione a definire il proprio mercato e analizzare le potenziali opportunità. I piani di marketing strategico supportano anche il processo decisionale organizzativo contribuendo a garantire che vengano creati obiettivi in linea con gli obiettivi organizzativi. Il marketing è una funzione aziendale essenziale. Il marketing riguarda la comprensione del cliente e sapere cosa vuole. Un piano non è una garanzia di successo, ma è un modo per assicurarti di fare tutto il possibile per avere successo.